Marco Grimaldi, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Grimaldi, un giudizio sul governo Meloni? Un giudizio pessimo. Qui siamo davanti a un crimine contro l'umanità, siamo davanti a un giudizio universale climatico e questo governo invece che rallentare sta facendo di più, sta andando contro la transizione ecologica, sta andando contro vento, contro mare, contro elasticità, contro alluvioni e di fatto sta consegnando questo cambiamento climatico alle prossime generazioni con dei risultati che tra l'altro arriveranno in faccia a tutti noi, alla nostra economia, alla nostra agricoltura e quindi quello che dico è che ahimè i cambiamenti climatici sono già qui, basta vedere il fiume in secca, basta vedere i ghiacciai prosciugati, basta vedere l'assenza di neve, questo clima in cui i ciliegi appunto iniziano a fiorire prima. Grazie.